La vasca da bagno classica motorizzata Si siede comodamente sul sedile che si trova all'interno della vasca che permette attraverso un pulsante di scendere direttamente sul fondo della vasca senza nessunissima fatica senza nessunissima fatica si rialza attraverso quel pulsante il sedile all'altezza che si vuole si alza e si esce direttamente dalla vasca Se fai fatica ad entrare in vasca e quando sei in vasca fai fatica a rialzarti questa è la soluzione adatta alle tue esigenze Grazie a tutti!